Perché l'impero romano sta facendo impazzire i social? Perché a quanto pare alcuni uomini ci pensano davvero spesso. E questo dice qualcosa di noi. Ciao, sono Micaela Fuotti della redazione di Breaking Italy. L'impero romano è diventato virale perché donne da tutto il mondo hanno chiesto agli uomini quanto ci pensassero. La questione è diventata così grande che diverse testate internazionali hanno interrogato storici ed esperti per capire il perché. Perché così spesso? Stiamo parlando di un dominio enorme che ha lasciato delle grandi tracce nella nostra vita. Ma perché gli uomini? Secondo gli esperti c'entra il modo in cui la storia ci è stata raccontata. Con un'enorme enfasi sulla mascolinità di quella società. Gladiatori, guerre, imperatori potentissimi. Ma ci sono altri aspetti di quella società che conosciamo meno. E parti della responsabilità ce l'hanno film come Gladiatore o serie come Spartacus. Parliamoci chiaro. Stiamo parlando di un fenomeno ingigantissimo. Non è detto che tutti gli uomini pensino all'impero romano e non è detto che le donne non lo facciano. Ma rimane un fenomeno la cui grandezza ha incuriosito gli storici. E che può dirci molto di come viviamo e impariamo la storia. Ma quindi voi quanto spesso pensate all'impero romano?